Ma non gli ho detto forse che io da bambino ero molto bravo a disegnare e ovviamente disegnavo automobili, ma erano automobili del tutto particolari. Sentiamola questa particolarità. Disegnavo ambulanze, ambulanze. L'ottor era un intenditore, la mia preferita era, ma oggi sarebbe impensabile come ambulanza. Era una Citroen CX familiare. Bella. E' interessante. Deciò? Divenuto bravo con le ambulanze e poi sono passato ai carri funebri. Vabbè, ma se lei pensa di impressionarmi. No, aspetti, il bello viene quando la maestra manda chiamare mia madre a colloquio. Perché? Perché per il giornalino di classe io disegnai... come si chiamano quei camion che portano le automobili? Un menarca pieno pieno di ambulanze e carri funebri. Ah, bene. Comunque il menarca è la prima mestruazione. Forse lei vuol dire una bisarca. E quella non è la seconda. Ma comunque questo camion dovette impressionare la maestra che chiamo mia madre a colloquio per esprimerle la sua preoccupazione. E sua madre? Ma lei tranquillizzò la maestra dicendo che era dovuto al fatto che abitavamo a due passi dalla morgue del policlinico. E quindi il bambino quello vede dalla finestra, quello disegna. A me perciò piace questo lavoro. Comunque cambiando discorso, noto che indossa spesso magliette con le scritte invertite. E' una moda di voi giovani che non conosco? No, no. Ho solo una passione per i musetti invertiti. Sa, il mio sogno era diventare autista di azz'nalubbiamo.